ma professore con mio figlio ma non riesco a parlargli perché dico lo abbraccia no perché è grande e grosso ma dico vorrei parlargli di qualcosa mandi un sms perché all sms risponde perché è uno dei pochi sensi di colpa che sono rimasti in questa società se non rispondi all sms ti senti di non saper vivere allora pensate sempre